Il sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore ha richiesto la conferma della condanna per 32 imputati, un nuovo processo di secondo grado presso la Corte d'Appello di Catanzaro per altre 26 persone e la rideterminazione di due pene. Questo è il riassunto della requisitoria presentata alla Suprema Corte nell'ultimo atto del processo abbreviato derivato dall'inchiesta stige della DDA di Catanzaro contro la cosca farao marincola di Ciro. In Cassazione sono iniziate le discussioni che proseguiranno fino ai primi di giugno, fino a quando è attesa la sentenza della Corte. L'operazione stige, avviata il 9 gennaio 2018 con 169 arresti eseguiti dai carabinieri, avrebbe permesso alla procura antimafia di Catanzaro di smantellare una holding criminale che per anni avrebbe controllato interi settori dell'economia locale e influenzato l'attività amministrativa dei comuni del Cirotano. L'andrina dei farao marincola sarebbe riuscita a dominare il mercato dell'import-export di prodotti alimentari e vitivinicoli, di semi lavorati e preparati per pizza venduti in Germania, oltre a ottenere appalti per il taglio e la commercializzazione della legna nell'altopiano silano, affidando gli interventi boschivi all'impresa Fratelli Spadafora SRL di San Giovanni in Fiore, utilizzando minacce e la complicità di funzionari comunali.